ciao e bentornati sul canale bentornati sul canale carissimi amici della degli amici di san reale non lo diciamo mai ma noi siamo gli amici di san reale qua abbiamo quello che abbiamo trovato è più lucido scusami eh andiamo uno vecchio è un po più lucido non lo so è un po più lucido è un po più smaltato anche al tatto è un po diverso non abbiamo ancora chiarito se si tratta di tu stai ferma con quelle manacce perché stai già aprendo no vieni qua a guardare la cosa e ridimi quelli che ti piacciono che non me li ricordo più mi sono graffiata questo unicorno quello con la cerniera il robot quello col sacchetto il fantasma quello con l'occhio perché inquietante l'impostore il pirata quello che va a foni il babbo natale ma l'abbiamo già trovato e poi come l'altra volta vediamoci anche su questa bustina in pratica vediamo che quello che ha la collana questo qua qui la collana non ce l'ha e quindi siamo curiosi di scoprire è aperto non aspetta e sei disobbediente questo è quello che abbiamo trovato l'altra volta che secondo alcuni l'elfo di babbo natale secondo alcuni babbo natale in persona ma verde come era all'origine non può essere di tutte e due mamma mia che cosa non sei ma c'è la check list dentro no allora abbiamo trovato l'astronauta che è brutto esatto è proprio brutto perché sembra avere una doppia testa è brutto cioè quando l'hanno ideato e stampato non si sono accorti che è brutto com'è brutto è proprio brutto allora tra questi due che preferisci domanda facile facile babbo natale e andiamo a vedere allora il terzo che abbiamo trovato oggi che è l'impostore l'impostore molto bello andiamo a vedere solo lui è carino sempre l'impostore ma quelli vecchi non c'entrano quindi uno due e tre nessuno di quelli che preferivo in assoluto non hanno fatto il morto non hanno fatto il morto e va bene si useranno quelli vecchi il vantaggio che hanno lasciato le stesse identiche dimensioni forse la prima serie era un po più piccola uguale questa cosa è molto carina il fatto che la scena una viola così me lo ricordo che sono uguali proprio lo stesso stampo solo colori diversi quindi uno due tre adesso dal prossimo video cominceremo ad abbassarci vediamo stanno in piedi allora facciamo così ecco un'altra cosa che avevano detto questi sono dei pupazzetti che non stanno in piedi vediamo se hanno migliorato e praticamente la stabilità non è facile ma io so che ce la possiamo fare no allora due su tre stanno in piedi e quello lì rimeremo un po' 3 su 3 caso va bene ricordatevi iscrivervi al canale mettere un like commentare condividere eccetera 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 e come sempre noi vi stutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao